E' un attentato ai diritti primari della nostra gente, sia a coloro che sono in vita che a quanti ci hanno lasciato in questi anni. Il sindaco di Gela, Domenico Messinese, interviene sulla vicenda che interessa l'Utina e la Breast Unit. In questi giorni, infatti, si parla di declassarli in unità semplici. Nonostante l'ospedale gelese sia di partimento d'emergenza ed accettazione e sull'incidenza di gravi patologie si sia pronunciata persino l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Già nei mesi scorsi c'era stato il ridimensionamento del reparto di malattie infettive. Assistiamo in creduli al rimpallo continuo delle responsabilità su una tematica che, come quella della sanità locale, dovrebbe smuovere le ragioni di un territorio martirizzato, come quello di Gela, che per anni ha subito politiche di convenienza finendo al centro di interessi ragioneristici, dice il primo cittadino. Per il centro di sonologia multidisciplinare confidiamo nella richiesta di revisione presentata dall'azienda sanitaria provinciale all'assessorato regionale alla salute, mentre per la terapia intensiva neonatale non tollereremo ulteriori accomodamenti. La politica non può farsi indifferente ai movimenti associazionistici, agli utenti e agli operatori medici. E se questo accade in una città che esprime un governatore e due deputati regionali, di cui uno, Giuseppe Arancio, proprio in Commissione Sanità all'ARS, abbiamo chiara, dice Mersinese, la cifra dell'impotenza e del disinteresse umano, prima che istituzionale alla delicata questione. L'amministrazione comunale, ha concluso Mersinese, continuerà anche questa volta a dare battaglia per evitare che Gela venga viripesa e spodestata di un diritto che vale più di ogni altra ragione.